Un principe azzurro l'aveva cercata. Principessa Siona? Il viaggio di nocce. E con chi? Un orco l'aveva sposata. Solo tu e io e... Shrek! Ma dal re alla regina. Con affetto, mamma e papà. Vallo di gala? Posso venire? Non era apprezzata. Nostra figlia ha sposato un mostro! Io parteggio l'altro. Sabato alle 21.20 su Italia 1. Ehi, micio micio! Shrek 2.